Signore esperti montanari! Scalatori! 1743 Pras-Vecin Allora quello è il Mont Blanc. Tu stai registrando adesso? Registro. Mont Blanc Pras-Vecin 1743. 100 metri. Perciò questo è il passo di Angus. 400 metri l'ora. Ti faccio un po' di zoomare. Il Mont Blanc Tutto bene? Qui sono le 6.20 Saremo a 1800 metri più o meno. No, meno, meno. 1.500 1.500 1.500 e c'è questa roccia incredibile qua. Ciao! Ciao! Siamo molto tanti oggi! Ciao Dad! Ciao! Ciao! Buongiorno! Sì, buongiorno! 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 No, io con Mario! Maia, no! Io sto cazzo con Yagin! Buongiorno! 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 Here they come. Landed. Touchdown.